Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video targato iPhoneItalia.com Oggi vi parlo di Pull to Respring È un nuovo tweak che consente di eseguire un respring, ossia un ricaricamento rapido della schermata home, in modo molto semplice Sappiamo che esistono diversi tweak per farlo, ma forse questo è uno dei più intuitivi Perché basterà scorrere verso il basso la schermata delle impostazioni, esattamente come facciamo per ricaricare le mail, per ricaricare la timeline di Facebook, la timeline di Twitter o altre applicazioni Per eseguire questo respring, vedete, basta scorrere in questo modo, lasciare, se lasciate troppo presto il riavvio non avviene Mentre se lasciate quando compare la rotella, il riavvio viene portato a termine Per chi non lo sapesse il respring è un'operazione utile per applicare ad esempio in ambito di jailbreak alcune modifiche Ma può essere usata anche in ambito di iPhone originali per applicare una nuova lingua ad esempio quando cambiamo lingua all'iPhone Comunque in generale è un'operazione molto più utile lato jailbreak che con questo tweak potete eseguire in modo davvero molto semplice Tra l'altro il tweak presenta un toggle rapido, avete visto, sulla destra che ci consente di attivare e disattivare il tweak Chiaramente se disattiveremo quella spunta verde, il pull to respring non funzionerà Quindi potremo utilizzare l'app impostazioni esattamente come lo facciamo su iPhone originale Dopo aver riattivato la spunta invece sarà necessario chiudere l'app e riaprirla perché il tweak ricominci a funzionare correttamente Bene ragazzi se vi è piaciuto questo video e se vi è piaciuto questo tweak lasciate un mi piace Condividete il video con i vostri amici e lasciate un commento anche per dirmi cosa ne pensate di questo programma Io sono Andrea Cervone e vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci risentiamo alla prossima Ciao a tutti Se ti è piaciuto questo video clicca mi piace, condividilo su Facebook e iscriviti al canale se non l'hai già fatto Queste tre cose ci aiutano a crescere e a migliorare per proporti sempre nuovi video dedicati all'iPhone di Apple Grazie